Italia 1! Apre Castle World! Se facciamo domanda ora, eviteremo la folla. Vorrebbe cambiare la sua vita. Non andrete da nessuna parte. Già, ma tu pulirai il possato. Ma quando succede? Castle World! Pensa di aver cambiato solo lavoro. Che cavalli! Che costumi! Che puzza! Martin Lawrence, Black Knight, lunedì alle 21. In prima visione su Italia 1. Giamate un'ambulanza! Uomo bianco a terra!